Il giro d'affari è stato calcolato in 34 milioni di euro, soldi pubblici naturalmente dirottati sulle ditte prescelte con il meccanismo dell'apertura preliminare delle buste, una realtà scoperchiata grazie a diversi esposti anonimi finiti nelle mani degli inquirenti che hanno generato i sospetti ed hanno dato l'avvio alle indagini. Tre coinvolti nella maxi operazione di finanze carabinieri, anche nomi illustri dell'Interland leccese, Rodolfo Rollo, ad esempio ex direttore generale dell'ASL Brindisi, per il quale erano stati chiesti gli arresti domiciliari e respinti dal giudice, così come per il novolese Antonio Perrino, 55 anni, imprenditore, entrambi sono indagati a piede libero. In carcere sono finiti invece due imprenditori leccesi, Vittorio Marra, 68enne, Adolfo Rizzo, 43 anni, amministratori della REVSRL, azienda di servizi di ingegneria clinica con sede nella zona industriale di Surbo e Cesarino Perrone, imprenditore di San Donato. Tra gli indagati anche Guido Scoditti, ex direttore generale dell'ASL di Brindisi e poi di Lecce, e l'ex direttore amministrativo dell'ASL Brindisi, Alfredo Rempino. Sono accusati a vario titolo di abuso d'ufficio e turbativa d'asta perché ritenuti complici nell'avallare le irregolarità in alcune gare d'appalto, ad esempio quella per l'assegnazione del servizio sull'attività a supporto di gestione flussi informatici dei centri di spesa, aggiudicata nel 2009 per oltre 700 mila euro alla Biosal di Novoli dell'imprenditore Antonio Perrino. Questo nonostante per delle procedure tecniche la sua offerta non potesse considerarsi valida, ma la lente degli investigatori ha fatto luce anche su una gara del 2008 per la fornitura di apparecchiature biomediche per gli ospedali brindisini, aggiudicata per oltre 5 milioni e mezzo di euro e su quella del 2007 per i lavori di pulizia nella struttura San Lorenzo sempre a Brindisi. Tra gli indagati a piedi libero anche Fiorenzo Pisanello, attuale capo dell'ufficio tecnico dell'ASL di Lecce. Cosa avrebbero avuto in cambio dalle aziende vincitrici le persone coinvolte, posti di lavoro per i parenti innanzitutto, ma anche viaggi, gioielli, mobili costosi, le quote societari di un albergo o l'affinamento in subappalto ad aziende di familiari. Solo la punta di un iceberg, dicono gli inquirenti, di un sistema collaudato che andava avanti nonostante molti sapessero che la magistratura stava indagando e con a capo come regista di ogni operazione Vincenzo Corpo a capo dell'area ufficio tecnico. Un ruolo importante era anche quello di Giuseppe Borromeo che pur non essendo dipendente dell'ASL è stato ripreso dalle telecamere nascoste mentre apriva le buste consegnate per una gara d'appalto. Era lui consigliere d'amministrazione della Santa Teresa, società partecipata della provincia di Brindisi, il faccendiere addetto alla manomissione delle buste. Cinque anni di gestione truffaldina nelle gare d'appalto racchiusi in 400 pagine d'ordinanza che raccontano come le forniture degli ospedali dell'ASL e Brindisina fossero del tutto pilotate con prezzi spesso al ribasso e merce a volte di scarsa qualità rispetto alle necessità dei pazienti.